Professore, è stata annunciata questa riapertura a partire appunto dal 26 aprile però ci sono dei dubbi insomma anche perché ci saranno degli assembramenti, le scuole aperte, mezzi di trasporto come pensate di risolvere questi problemi? Campionin se riparte, allora visto il grande successo fino ad ora ottenuto sui mezzi di trasporto prolungheremo la disposizione della capienza massima sui mezzi consentita finora al 50% però se almeno il 30% degli occupanti hanno i capelli lunghi, rissi, fissi, grossi e se almeno il 30% degli occupanti hanno il riporto si passerebbe automaticamente al 60% ma come sarà possibile vigilare tutto questo? Grazie alla Pimuni e invitiamo quei pochi che non l'avessero già fatto ad affrettarsi a scaricarla perché entro il 26 aprile verrà regalato un buon omaggio per un taglio di capelli quindi cagato e spuato a quello di Speranza che tanto impazza tra i giovani Assolutamente! A dire il vero ci risulta che gli assembramenti ci siano e come invece o no, professor Coso? Effettivamente ci sono stati casi sporadici di assembramenti ma onestamente non mi sento di addossare la responsabilità sulle istituzioni non capisco tutta questa smania di servirsi dei mezzi pubblici per recarsi a scuola fatti portare dal genitore 1 o dal genitore 2 oppure mettiti un bel paio di sgalmare e vai a piedi fai quattro passi, fai un po' di moto e se non fosse possibile nemmeno questo fai l'autostop che è sempre una bella esperienza da raccontare un giorno ai nipotini oppure fai verna Ma come no, ma no, ma scusi Sono i ristoratori che si lamentano perché ci sono quelli che non hanno naturalmente plateatici Come faranno? Come recita la direttiva i ristoranti potranno rimanere aperti a pranzo e a cena solo se muniti di spazio all'aperto però devono avere ombreloni dei gelati Tanara o Eldorado che abbiano almeno una giostrina per i bimbi una lampada frigis d'insale e un gigione che canta Maracaibo Mare Forza 9 e tu e la sottasterina del Meng Sì, però ci scusi, ma i ristoratori che non dispongono di plateatici saranno ancora una volta penalizzati Ovviamente abbiamo pensato anche per quegli esercizi che non dispongano di spazi all'aperto i quali potranno usufruire del nuovo incentivo Abbatti la perriana Abbatti la perriana In cosa consiste? Non dispone di un plateatico Bene, chiami il tuo cognac che fa il murador e abbatti la perriana così da crearti il tuo plateatico Il 60% delle spese sostenute al netto delle multe pagate per abusivismo saranno considerate come credito d'imposta Così avrai il tuo bel plateatico e potrai tenere aperto anche alla sera senza continuare a passeggiarci sulla sac a poche E per chi non potrà usufruire di questo incentivo? Se non potranno usufruire di questo incentivo o perché non hai il cognac murador o perché se butti zona perriana ti ritrovi direttamente sulla statale invece di un ristorante potevi versate un tabacato Comunque c'è anche il problema del coprifuoco alle 22 Non vedo quale sia il problema Non capisco questa moda di tirar tardi di stare fuori a gigionare Vuoi mettere il piacere di uscire alle 18.30 18.40 Adesso che c'è ancora chiaro E gustarsi quel meritato aperitivo fino alle 18.53 Sedersi al ristorante alle 19.05 Alle 19.14 hai già la portata sul tavolo Ti godi una bella cenetta Alle 19.35 stai mescolando il tuo caffè e il lemoncino offerto già lì che ti aspetta Paga, saluta Grazie, arrivederci Sei già fuori dal ristorante Dai uno sguardo all'orologio e dici Caspita Rina Già le 19.47 Come vola il tempo quando ci si sbogola E dici alla tua signora Stasera non ho voglia di fare troppo tardi Calcolando che il ristorante si trova a 123 metri da casa Che a quest'ora il traffico è piuttosto fluido Andando ad una velocità di crociera di 35-40 km orari Dovremmo essere sull'uscio di casa Alle 19.51 barra 53 Massimo Che dici? Torniamo a casa Magda? In collaborazione con Busetta e Botton Le ricette de Menona Bunta della tradizione veneta Mototaxi I fattorini di Verona Molin Auto Massimo Zaglia Autospurghi I fattorini di Verona